I due Mattei vengono percepiti come un problema in misura superiore a Giorgia Meloni. Fuori dalla classifica Silvio Berluscon. Il 2022 è appena cominciato, ma continuiamo, io, almeno, continuo, a guardare indietro. E intorno. Per capire cosa resterà, del nostro passato prossimo. In particolare, chi. Quali personalità hanno lasciato e lasceranno un segno, nell'anno passato e in quello che verrà. A questo fine, abbiamo preparato un sondaggio, condotto da Demos, per capire quali siano i leader migliori e peggiori, secondo gli italiani. In ambito nazionale e internazionale. D'altronde i partiti e le istituzioni sono ormai, da tempo, personalizzati. Riassunti e identificati dai loro leader. In qualche misura, presidenzializzati. Svolgiamo questa indagine da molti anni. Ma quest'anno fornisce un'immagine nota. Già vista. E quindi prevedibile e prevista. L'immagine di Mario Draghi. Definito il migliore, sulla scena nazionale, dal 27% degli italiani intervistati, ma anche in ambito internazionale, secondo il 20%. In entrambi i contesti, agli occhi degli italiani, la sua prevalenza appare evidente. Ma, rispetto all'anno scorso, soprattutto a livello internazionale. Sicuramente perché il suo rapporto con le istituzioni finanziarie e politiche europee pesa ancora molto. Mario Draghi costituisce, dunque, il riferimento. Queste indicazioni risultano particolarmente significative perché espresse spontaneamente dagli intervistati. Con domande aperte. Senza liste di nomi predisposte.